Ancora un lutto in Rai nella trasmissione di 90esimo minuto, è morto oggi a Cosenza dopo una malattia al giornalista Emanuele Giaccoi, aveva 93 anni, lo ha annunciato sui social il figlio Valerio, anche egli giornalista. Giaccoi è stato per tanti anni la voce e il volto del Catanzaro per il programma Rai 90esimo minuto. Giaccoi ha debutto in Rai con Mike, buongiorno.